Ma adesso come mi diverto e come mi incavolo Allora, allora, allora Io da quando sono fidanzata con Giacomo Che combatto con A prescindere dal fatto che in realtà di base non me ne frega niente Perché non sono una che sta troppo a guardare Critiche, giudizi eccetera eccetera Cioè nel senso Tramite Instagram le persone si conoscono forse all'1% Di quello che sono veramente Anche se io sono molto trasparente E mi mostro realmente per quello che sono Ad ogni modo è da quando io sono fidanzata con Giacomo Che ogni volta che ci separiamo Per motivi X Devo sempre leggere Che tra noi è crisi O addirittura alle volte insulti Perché io mi separo dal mio compagno E magari vado a cena con amici Mentre lui ha appena messo una storia che ha a casa O viceversa Quando io sono a casa e lui ha una cena con amici E alla fine lì è crisi È crisi È magicamente crisi Cioè ma ragazzi Ma perché? Soprattutto Io non sinceramente A parte che lasciano il tempo che trovano certi messaggi Ma in realtà Non è che mi dà fastidio a me Mi dà fastidio per un discorso generale Perché dal momento in cui io so che tutto questo non è vero Me ne sbatto altamente Ok? Ma dato che trovo assurdo Che una coppia come noi Come tutti Ok? Come tutte le coppie normali Che conviviamo Abbiamo due lavori differenti Siamo accomunati da tante cose E anche non accomunati da tante altre E che non ci ostacoliamo nelle cose in cui non ci accomuniamo Ok? Quindi lui è libero di fare tutto quello che vuole Io sono libera di fare tutto quello che voglio Soprattutto una coppia che di base ora si convive in una città Ma che arriva da due città differenti e lontane Siamo una coppia che si vive in modo totalmente libero Ok? E per libero non significa che siamo una coppia aperta Siamo semplicemente liberi di vivere Come individui e come coppia Quindi tutta la premessa fatta parlando del fatto che Viviamo, arriviamo da città differenti Lavori differenti eccetera eccetera È per dire che Se io sono a casa con il mio fidanzato Sento la mancanza di mamma E ho voglia di farmi una settimana a casa E Giacomo non mi segue perché magari ha altro da fare O preferisce fare altro e non venire con me Con me Dov'è il problema? Se magari al contrario Io ho tante cose che mi si incastrano per un periodo Più o meno lungo Come in questo caso che sono stati quasi 15 giorni Ci separiamo perché I giorni in cui magari c'era lui Non c'ero io e viceversa Pace L'amore resta Ci sentiamo quotidianamente quando riusciamo Poi ci vedremo quando riusciremo Io sono qui che lo sprono a dare il suo meglio Lui sprono a me E aspettiamo solamente per assurdo domani Di vederci Salutarci E tornare alle nostre vite Quindi Questo succo Non era tanto per parlare di me e Giacomo Perché ripeto Sapendo io la verità Sapendo che non siamo in crisi Che stiamo benissimo E io sono super fiera di noi Super fiera di lui Super fiera di me E di qualsiasi cosa È un discorso molto più ampio e generale Ovvero Ma cazzo Ma Le coppie che si vivono così in modo sano Ok? Libero E si danno Insomma Forza vicenda E non si limitano in niente Ma anzi Comunque Ricordano sempre A loro stessi Che la vita Di base Nasce come individuo singolo E poi ci siamo ritrovati a essere una coppia Quindi Nessuno deve limitare l'altro Perché devono essere viste come delle coppie Che in realtà hanno qualcosa sotto Non sane O c'è crisi Cioè Ragionate su questo concetto Altro piccola parentesi Quando quest'estate mi vedevate alle volte andare al mare da sola O fare delle cose da sola E mi scrivevate sempre Ma Giacomo non viene con te? Ma perché dovrebbe venire? Mi viene da chiedere Cioè io Se sto anche bene da sola Qual è il problema? Qual è il problema? Se io individuo So stare bene con me stessa E alle volte mi piace stare con me stessa Da sola Senza il mio compagno Per i fatti miei Per il piacere di regalarmi e donarmi del tempo piacevole a me stessa Qual è il problema? Secondo me Anzi Dovremmo un po' tutti lavorare su questo E di imparare a stare molto bene da soli In modo tale da rendere migliore Il tempo che poi abbiamo Con le altre persone Con questo Pace Pace